L'avviso di velocità con riconoscimento dei segnali stradali viene attivato tramite lo schermo multifunzione. Il sistema rileva i segnali di limite di velocità lungo la strada e visualizza il limite sul quadro della strumentazione. In caso di superamento del limite, si viene avvisati tramite una segnalazione visiva. Quando il limitatore di velocità è in funzione, è possibile regolare il limite di velocità impostato sulla velocità visualizzata dal sistema.